stupendo e tutte le due lo faccio mentre chi l'ha trovato mia a me giralo un po' tanto sta riprendendo avvicinata un po' a te bruno bello stupendo dagli un bacio no ma poi ragazzi ma è una cosa è una cosa ma di così poi all'aperto ma sono proprio all'aperto ora santo è del bosco questo comunque non lo do via mi dispiace ma lo sai quel chilo che ho trovato